Buon viaggio, ben trovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini, personale su strada sulla Firenze-Pisa-Livorno, segnalato tra San Miniato ed Empoli-Ovest in direzione Firenze. Ancora in FIPI-Li, lavori tra il Bivio S e GC A12 Colle Salvetti, interporto toscano est in direzione Livorno. Sulla 11 il traffico è intenso tra Alto Pascio e Lucca est in direzione Pisa. Sulla variante di Valico c'è un veicolo in avaria tra il Bivio A1 Variante e Badia verso Firenze. Lavori a Firenze in via San Carlo domani e martedì 28 maggio, orario 9.11, è prevista una interruzione momentanea della circolazione tra i numeri 27 e 23 barra A. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.